Luca Balestrieri, ero incerto sul tipo di quesito, diciamo, d'apporti, però vorrei essere molto generico, ma tu sei fin troppo sofisticato per non venirmi incontro e darmi una mano, ma il punto di partenza è che una volta noi concepivamo la televisione come un sistema molto verticale, le telecomunicazioni come un sistema molto verticale e gli altri pochi ammennicoli che stavano intorno come dei satelliti di sistema. Oggi tutto questo cade e poco fa Antonio ha citato le torri di trasmissione, poi sappiamo che abbiamo i contenuti, l'industria dei contenuti, ma l'industria dei contenuti non è solo un servizio per il telespettatore, è anche un apparato produttivo, cioè un prodotto commerciale che può alzare o abbassare la bilancia dei pagamenti di una nazione se lo si fa in chiave estremamente massiva. E poi tutte le altre cose che sono legate alla possibilità di legare questi contenuti a modelli di business innovativi. Sappiamo che la televisione guarda un po' all'internet delle cose, guarda un po' alla diffusione capillare attraverso canali innovativi, nuovi, personalizzati, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo indica un ampliamento di orizzonte che non è più l'idea di trasmettere da un punto a tanti e magari con la semplice variabile di avere molti canali. Questa è una visione arcaica che già quando avevo i capelli meno bianchi era quasi superata e oggi ormai è andata. Ecco però si apre uno scenario nuovo in cui ci si chiede ma il broadcaster e quindi in questo caso la Rai sta giocando questa partita è attrezzata. Cosa può fare per entrare veramente in partita? Oppure quali sono le cose che il sistema, il nostro sistema paese può fare per consentire a questo organismo, a questa struttura e a questo mercato un boost diciamo di sostegno? Ecco naturalmente sono cose talmente vaste che messe anche giù molto disordinatamente ma l'acquisito che ti pongo è quale potrebbe essere una gerarchizzazione di queste cose? Come potremmo trovare un filo conduttore che ci dice qual è la cosa più rilevante da cui partire e tirarsi poi dietro tutto il resto? A te Luca. Ho paura che la risposta sia una parola che forse non so quanto è il caso di buttare sul tavolo ma è geopolitica perché tutto il ragionamento che hai fatto sulla capacità del sistema che poi sistema paese, sistema Europa di affrontare certe sfide poi ti riporta questa cosa qua però facciamo due passi indietro perché dobbiamo partire dai media cioè da quel primo da quell'elemento che sta anche nel titolo media e cosa. Fatemi fare una battutaccia se fossimo ancora dei broadcaster dovremmo dire il 5G sono quelli che ci rubano le frequenze che prendono la banda 700 poi vorranno la banda 600 e poi ci lasciano il VHF, ci laccano il VHF e faremo delle cose però non siamo per fortuna ancora non siamo inchiodati nella mentalità del broadcaster perché? Perché come dicevi tu Raffaele un attimo fa il sistema dei media è già diventato qualcosa di profondamente diverso e con una velocità pazzesca sta diventando una realtà totalmente totalmente inimmaginabile solo pochi anni fa. Dobbiamo pensare al sistema dei media come a una nuvola, una nuvola di messaggi che viaggiano sia orizzontalmente da un punto a un altro punto a un altro punto a un altro punto sia verticalmente da un punto a tanti punti perché social media e mess media ormai sono realtà sempre meno difficili, è sempre più difficile distinguerle. In tutti i sensi sappiamo che Facebook conta più dei telegiornali in una campagna elettorale e soprattutto e quindi essendo i media, il sistema dei media una nuvola fatta di tante cose oppure essendo un pochino più precisi un sistema di sistemi sempre più complesso, beh è evidente che una rivoluzione come quella del 5G ci va a sbattere in modo molto molto netto. Innanzitutto su ciò che fa questo grande macchina di produzione e distribuzione dei contenuti, molto rapidamente perché l'ora è quella che è, ma ricordo soltanto per punti i momenti in cui questo complesso di produzione e distribuzione dei contenuti andrà a impattare con queste nuove tecnologie. Innanzitutto è stato ricordato anche prima realtà virtuale, realtà aumentata, mixed reality. Pensate alle applicazioni dal punto di vista dei messaggi, l'entertainment, un paio di anni fa c'era il Pokemon, che poi è crollato abbastanza rapidamente l'interesse ma era un esperimento. Ecco pensate all'intrattenimento, realtà aumentata, realtà virtuale, tutto quello che ci si può fare. Pensate allo sport, pensate ahimè all'educational che è sempre triste, no? Che però può diventare nell'ottica che ho sentito nel pomeriggio un approccio diverso alla formazione e quindi non l'educational tradizionale ma appunto qualcosa di progettato in questo senso alle news. Perché poter entrare nel campo delle news con questi nuovi strumenti e ma non c'è solo quello, pensiamo all'intelligenza artificiale, no? Allora il mese scorso in Cina hanno sperimentato uno speaker, un giornalista di telegiornale virtuale. Cosa c'è dietro? Cioè dietro ovviamente un algoritmo che seleziona le notizie e una capacità della macchina di apprendere per cui è confezionato. Questo appartiene più a quell'elemento folclorico, no? A quell'elemento di epatele bourgeois, quel elemento di guardate come cosa che può venire fuori ma dietro c'è una potenzialità e un problema enorme. Applicare l'intelligenza artificiale alle news significa fare un passo ulteriore rispetto a quello che abbiamo già fatto dal passaggio della mediazione giornalistica editoriale alla mediazione algoritmica, quella di Google News, quella di tu e lo che sappiamo, fare un ulteriore passo, no? Un ulteriore passo con potenzialità ma ripeto anche con dei problemi che già stiamo vedendo. Vado ora molto rapido. Un altro aspetto dove va a impattare sul sistema diciamo mediale la questione del 5G è il fatto che questi messaggi di cui ho parlato non ci stanno più dentro il televisore. non solo perché stanno negli smartphone, nei tablet, stanno il grande consumo dell'informazione, del contenuto, ormai è in mobilità, lo sappiamo, ma soprattutto stanno fuori dal televisore nel senso che stanno in uno smart building, al quale a sua volta sta in una smart city dove ci sono delle reti di servizio che convergono e quindi questi contenuti non sono più governati dal sistema mediale, ma entrano all'interno di questo contesto dove si pone il problema di chi comanda, cioè chi governa questi flussi, chi li regola. E qui andiamo al punto, perché finora ho raccontato come dire delle cose possibili, ma che convergono verso un punto. Cioè chi è il soggetto che è in grado di organizzare e quindi di governare questo sistema. Non è il broadcaster, perché il broadcasting sta morendo lentamente. arriveremo al 2030 col digitale terrestre, probabilmente, ma sostanzialmente la grande rivoluzione lato consumatore è oggi. Gli anni venti che sono dietro l'angolo saranno gli anni del grande switch, del grande trasformazione. Il consumatore, le modalità di consumo cambieranno, andranno verso la personalizzazione del content, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che il broadcaster come modello storico ormai è già qualche altra cosa. Ma io devo aggiungere che quello che è l'obiettivo che normalmente ci si dà, diventiamo una media company, è un obiettivo, ahimè, che sta già diventando vecchio. Logoro. Perché, guardate, oggi il competitore di chi produce e distribuisce contenuti. Non sono le media companies, sono i global digital players. Vi faccio solo un esempio per Ryan Mediaset, il grande duopolio della pubblicità in Italia. Raccolgono, sono dati del 2017, hanno raccolto nel mercato complessivo di tutti i media italiani il 34%, che è tanto. Sapete quanto hanno raccolto Google e Facebook nel complesso della pubblicità in Italia? Il 32%. E mentre quel 34% sta là e in un monte di risorse trainato dall'online, questo 34% sarà sempre più piccolo, quel 32% sarà sempre più grande. E quindi siamo in una situazione nella quale già oggi il competitore di chi va a raccogliere pubblicità per i media si chiama Google. O Facebook. E lasciamo stare quanto pesa Google nel mercato mondiale di tutti i media. Io ho fatto una stima calcolando sui 570 miliardi di dollari il mercato pubblicitario globale, però è una forchetta. Con questa stima conta il 17%. Cioè ogni 100 dollari, euro, yen, sterline di pubblicità nel mondo, 17 vanno a Google. Non credo che nella storia dell'umanità ci sia stata una concentrazione di potere sul mercato di queste dimensioni. Però dice, vabbè, è la pubblicità. È nel lato dei contenuti. Allora, chi è il mio competitore nel lato dei contenuti quando faccio una serie televisiva, per esempio? Beh, sapete qual è uno? Uno dei giganti, forse tutti conoscete il trono di spade, naturalmente, no? Grande serie televisiva. Dietro il trono di spade, come dietro altre serie, Soprano, eccetera, le grandi serie americane, c'è un soggetto grosso che si chiama HBO. È la superpotenza della produzione delle serie televisive nel mondo. Sapete quanto ha investito nel 2017 HBO per fare serie televisive? Due miliardi e mezzo di dollari. Tanto. Sapete quanto ha investito Amazon nel 2017? 4,5 miliardi. Sapete quanto ha investito Netflix? 7 miliardi di dollari. E sapete quanto ha investito Apple? Che dite, Apple fa le serie televisive? Sì, ha investito 2 miliardi di dollari. E la Apple TV è qualcosa che sta salendo. Sta salendo, no? Perché se il televisore diventa un oggetto fatto di intelligenza, il fatto che ci sia Android dentro, ci sia un altro, no? Che ci sia iOS, ci sia quello, ci sia la Apple TV o sia nel mondo di Google, beh, signori, conta. Allora, quindi, voglio diventare media company? Peccato, è tardi. David, ormai ci si confronta con i global player che governano. Per questo, dicevo, bisogna, questo discorso poi arriva alla geopolitica. Perché? Perché giustamente oggi nel pomeriggio, nelle sessioni che ho sentito, purtroppo sono arrivato non prestissimo, ho sentito molto insistere sul concetto di sistema paese. Perché questo è il punto. Questo è il punto. Noi abbiamo, ci siamo cullati dagli anni 90 in poi, ma poi soprattutto dalla grande ondata dopo il 2005, no? Nel fatto che, vabbè, il mondo è piatto. Nel senso che la rivoluzione digitale sta creando una uniformità a livello globale, no? Dove certo c'è un centro, ma, come dire, è un centro benefico, no? E' un centro benevolo, non benefico, è un centro benevolo. Per cui queste ondate di tecnologia digitale che nascono, che hanno un centro, un centro, poi si propagano e trasformano, e nella trasformazione, alla fine, il mondo è migliore. Poi ci stiamo accorgendo che in realtà occorre, no? Se non hai la capacità di governare i flussi di innovazione, no? Se non hai la capacità di governare i flussi di innovazione, poi ti trovi in difficoltà. Perché non ha poco senso dire l'innovazione crea o distrugge lavoro. Dipende dove. Perché in questo processo di innovazione si è legato poi ai processi di globalizzazione, di spostamento. Cioè, è complessa la cosa. Cioè, va vista in una dimensione anche di distribuzione spaziale, no? Centro-periferia, e come le periferie reagiscono al centro. E' sempre stato così in tutte le fasi dell'industrialismo. Dalla macchina al vapore, all'elettricità, eccetera. Allora, questa illusione che il mondo era piatto, adesso ci stiamo accorgendo rapidamente che non è vero che il mondo è piatto. Prima ci siamo accorti che forse non è così benevolo questa dimensione. E che quindi occorre organizzarsi per governare i propri flussi di innovazione, i propri processi di innovazione. E quindi occorre la dimensione, anche perché poi ci rendiamo conto, modelli di business. Io preferisco parlare di modelli di innovazione. C'era tutta una scuola degli anni 90, anche abbastanza interessante, che poi si è persa sui modelli nazionali di innovazione. E allora mi verrebbe da dire che questi ultimi dieci anni hanno mostrato che il modello europeo di innovazione, che poi sappiamo c'è il modello tedesco, il modello francese, quello italiano, è profondamente diversificato. Ma complessivamente qualche bullone l'ha perso. Qualche vita è saltata in questo modello di innovazione. Ecco, adesso poi ci accorgiamo che non è nemmeno piatto, perché ci sono le increspature, perché stiamo andando con una velocità che mi stupisce, perché io me l'aspettavo, ma un pochino più lentamente, verso un bipolarismo, ancora diseguale ovviamente, no? Ma quando si dice non comprate i telefonini Huawei, perché è evidente che si va verso un bipolarismo, dove la geopolitica torna a contare, dove i sistemi paesi, e per noi il sistema paese è anche l'Europa ovviamente, dove i sistemi paesi sono messi in tensione da questi processi di trasformazione. Beh, ecco, questo è il tema, questo è il grosso tema, per cui riorganizzare, scusa, un ultimo concetto, ma rapidissimo, il 5G, tra le altre cose, ma assieme a tutto quest'altro cluster di tecnologie, l'intelligenza artificiale, meno il blockchain, perché mi sembra più... Però, insomma, c'è tutto, c'è una disruption, una discontinuità. Questa discontinuità può essere bene o male, a seconda, no? Delle cose. Può essere... qual è l'opportunità che offre? Se il 5G, come abbiamo visto, mi fa industrializzare, o industrializzare ad un livello superiore tutte delle filiere di servizi, filiere industriali, filiere di produzione, i porti, no? I trasporti. Se mi crea... se mi fa fare un salto di qualità all'industrializzazione di filiere, questo vuol dire che in quelle filiere devono andare capitali, accumulo di know-how, processi di innovazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa è l'occasione per dire, signori, increspo anch'io questo mondo piatto e quindi mi rafforzo nella mia capacità di sistema, però ovviamente occorre concentrazione di know-how, di capitali, innovazione, guida, come diceva giustamente Catania prima, cioè visione, leadership, capacità di costruire questo sistema. Però è un'opportunità. Allora direi che forse conviene metterci la testa per sfruttarla. Una battuta sull'opportunità, perché hai iniziato a parlare lanciando il termine di sovranità. Adesso abbiamo inteso che il tuo riferimento era ad una sovranità digitale. Se l'avessimo saputo negli ultimi 15 anni, quando parlavamo di innovazione, che avremmo fatto la campagna elettorale per un sistema in cui in tutto il mondo un numero di società inferiori alle dita di due mani avrebbero posseduto tutto il mondo, forse non ci avremmo scommesso così tanto in quei termini. Però ecco, a questo punto, se è geopolitica e se la partita è sulla sovranità digitale, quello a cui tu facevi riferimento è l'unica battaglia politica da fare, perché tra i due grandi giganti l'Italia come sistema sarebbe poca cosa. O ci agganciamo all'Europa con tutto quello che l'Europa vuol dire, anche con le organizzazioni sovranazionali come EBU, o no? Perché se no la battaglia è persa in partenza. La dimensione è quella del... ovviamente del... ma è dal 1914 che è il problema dell'Europa e il problema della dimensione a livello... Leggetevi un bellissimo libro, Assalto al potere mondiale di un storico tedesco degli anni Sessanta. Cioè, era dall'inizio del Novecento che il problema delle dimensioni è evidente. Però, anche lì, bisogna, come dire, essere forti a casa propria, costruire delle partnership, i servizi pubblici devono essere forti a casa propria, ma essere servizi pubblici in questa nuova dimensione, il che vuol dire... lo butto lì perché poi facciamo... il problema delle infrastrutture, il problema delle infrastrutture, dalla CDN al... come si organizzano gli exchange... cioè... arriveremo domani mattina, no? Il cloud... non bastano le leggi... non basta la legge che dice che il mio dato non può andare in California o in Malesia. Occorre poi che ci sia un'alternativa per cui il mio dato resta in Toscana, per capirsi. Grazie Luca, grazie perché abbiamo aperto veramente su uno scenario... è vero, bisognerebbe discutere fino a domattina per questo e forse non basterebbe, ma sappiamo che la partita è tutta aperta ed è tutta veramente da giocare. Questa è la cosa più straordinaria. è un calveso ordinario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.